Un salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo contenuto multimedie Oggi come avete letto dal titolo andiamo a giocare a Poppy Playtime Capitolo 1 visto che è diventato free play da un po' di tempo Francamente ne ho sentito parlare ma non ci ho mai giocato al computer Quindi ieri l'ho installato quindi oggi ci giochiamo Ma detto questo non perdevo altro tempo e direi di iniziare Eccoci qua ragazzi allora noto che ok Un video Ah c'è questo signore che ci spiega No 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 schifo 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 Perfetto signori eccoci qua Allora dove dobbiamo andare Salve Allora noto che c'è un videoregistratore degli anni 80 E che c'è una videocassetta Devo prendere la cassetta e la devo mettere qua E in teoria l'ho ci dovrebbe mostrare un video Eccolo No non è che me ne frega tantissimo Allora praticamente mi sono fatto dare qualche consiglio da un mio amico Che ci gioca e mi ha detto che devo andare tipo qua E dovrebbe esserci tipo un trenino da qualche parte Ah eccolo qua Ok questi qua in teoria sono i colori del codice Per prendere quella roba là Rosso, giallo, rosa, verde Perfetto Rosso, giallo, rosa, verde Perfetto Eccoci qua Oh C'è un registratore anche qua Perfetto Ci mettiamo la cassetta dentro E guardiamo il video Questo ce lo dobbiamo guardare per forza Grab pack Ok quindi si possono tipo Ok si possono trasportare oggetti No Va benissimo Posso trasportare elettricità Ok vedete che ci ho dato questo grab pack Si dovrebbe prendere quella ai sempre Ok perfetto Adesso possiamo muovere l'interno con il mouse Che se io clicco i tasti Ok si muove Potete vedere che Allora testiamo le funzioni del video Ci ha detto che possiamo tipo spostare gli oggetti Gli oggetti li sposta Però noto che ci abbiamo una sola mano Mi sa che ce la dobbiamo costruire Non lo so Fammi passare brutto imbecile Non ce l'ho al biglietto Ok Che succede adesso Buonasera Ciao amico mio Posso entrare? Vabbè ti batto il 5 Allora io sto qua Adesso vado qua dove devo andare E tu non mi rompi Cogliotes Ok Guarda la chiave E adesso in teoria Dobbiamo andare Qua Ok Dove siamo? Cosa devo fare qua dentro? Ah noto che ci sono i paletti del video Questi paletti qua ci sono anche nel video Quindi in teoria Ah qua Vedi che ci sono le mani Devo tipo Prendere qua Ok O che devo fare? Devo tirare? Tiro Eeeh Dovrei Ho fatto quindi Devo premere qua Ok Ah ok Ho capito che stiamo facendo Praticamente stiamo trasportando elettricità Oddio Ok Trasportiamo elettricità Magari però Facciamolo giusto Perfetto L'altro tostava? Non ce sta Tostava l'altro Oh Madonna Acqua Perfetto Allora Allora Io non so se questo è un pupazzo Oppure una creatura vivente Però Qua non c'è Da più Eeeh Mi devo mettere paura? C'è un bottone Eeeh No No Ah Attacco l'hai Ma che Trasciata Mai questa Ok Adesso dovrebbe andare Ok Ah Ok Stiamoci calmi Perché Allora Praticamente Io ho visto Un braccio La fuoriuscire Ma non è che ci sta Un jumpscare adesso No C'è un rumore Posso entrare qua Eeeh Buonasera Vaffanculo Non so perché Quando apro le porte Faccio tipo Così Non lo so È una cosa mia Ok Allora Là c'è un Videoregistrato Ok Che devo fare adesso Devo tipo Cliccare i bottoni No Non devo cliccare i bottoni Non penso sui bottoni Questi Che è sta roba Ah Ah La posso via C'è sta un altro A me sa che ho capito Ragazzi Sti cosi Sono tipo Quelli che devono andare Da sopra Perché da sopra Ci sono quattro slot E mi sa Che se ce ne sono Quattro di questi qua Ci ho azzeccato Eeeh Ma non Non vedo gli altri Ok Questo Eeeh Ah è questo qua Perfetto Ce li abbiamo tutti e quattro Ok Dovrebbero andare Qua Oddio Che è questo rumore C'è qualcuno Buonasera C'è qualcuno No non c'è nessuno Perfetto Allora questi qua Vanno qua E vedi che c'hanno ragione Perfetto Stranamente ce la sto facendo Non è da mio Ah questa è l'altra mano Perfetto Ce l'abbiamo tutte e due Dobbiamo entrare là dentro Perfetto Cattello dice molto Annaggimurto Ok Entriamo qua dentro E ora che dobbiamo fare Qua No E fammi entrare Non c'è Questa roba Questa non si può Dove devo andare Eeeh Non Ah qua qua Oh Qua ci sta un altro Ma Aspetta Ma Scusa ma Perché non posso farlo Cioè qua Ok qua c'è scritto uno Quindi io devo andare di qua Di così Poi scendiamo da questa parte E poi Non possiamo far più niente Perché ci si è scaricato Ma ecco Ecco come si deve fare Ho capito Bisogna fare così Poi così E beh Certe volte mi sorprendo da solo Quanto pare sbagliato No è giusto Perfetto Ok Ci siamo eh Ci siamo No Eeeh Dove mi sta a portare questo Mamma Mamma Dove siamo finiti Make a friend Crea un amico Eeeh Ok Non va Allora abbiamo capito Che bottoni Questi qua li devo premere con l'A Però non va Non va Tra pure che sto coso qua Sta qua dal 1980 Quindi non so se la corrente C'è sta ancora Allora Che cosa Dobbiamo fare Qua Vediamo perché C'è scritto qualcosa qua C'è scritto qualcosa Needs power Tutto lavato Troviamo La power Qua sopra Ragazzi Ditemi se questo video Vi sta piacendo Perché a me Mi sta intrigando molto Questo poppy playtime Se vi piace Possiamo magari anche fare un video Sul secondo capitolo Sul terzo capitolo Oltre che anche a project playtime Perché esiste project playtime Che anche quello è free to play E mi intriga tanto quello Perché l'ho visto in qualche video Però Allora Cosa dobbiamo fare Qua Qua dobbiamo prendere l'energia Qua Ci stiamo Poi Dobbiamo cadere No forse questo lo dobbiamo fare Ok ragazzi Perfetto In teoria Dobbiamo andare qua No Ok Ovviamente no Così Così Siamo come Oddio Ma No Che figo Ok Perfetto Signori E mo ti puoi rompere le ossa Vamona Va Non c'è di niente Ma Ma Porca Di quella Putta Ok Che devo fare Adesso Cosa Devo fare Oh Ah dovevo tirare giù le leve Ok Perfetto Eh Ok No Ma dovevo Aspetta Tutto quanto il procedimento Ok Allora Questo Lo seguiamo Ragazzi E questo qua L'ha colorato Poi Questo che cosa fa Questo qua Lo mette insieme Poi questo Che cosa fa Ok Questo lo scannerizza Per vedere Se è fatto bene Boh Dai Non c'ho tutta la giornata Oh Vaffanbaglio Mi sa che lo devo mettere qua Come faccio però Eh Con la E Perfetto Con la E Dove andare qua Io non c'è andrei No Si può andare Niente Dobbiamo Dobbiamo andare qua Ok Ok Oh Ma che cazzo Ma Non c'è Oddio Porca Dove devo andare Qua 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 Porca Madonna Oh Senti Ok Oh madonna Porco Oh Qua 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 Ok Ok Oh ma Porca Di quella Migno Do Do Di qua Di qua Di qua Perfetto 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 Ok Oh madonna 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 Che caga Che caga Dove Di qua Di qua Di qua Di qua Porca No Di qua Porca Di qua Porca Ma Si 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 Vai 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 Perché è più lento Perché è più lento Ma Vaffan Ok Oh Lo scatolo Lo scatolo Porca Mi dici qualcosa Pure te E che palle Ho finito così Ma La mano È andata Nel vuoto Ma E Ma Dove Andare Scusate E No Qua Non si va Da nessuna Parte Ok No Seriamente Ma Dove Andare Oh Ma Manco Forse Là Là C'è una Videocassetta Io la prendo Questo L'avevo visto In lontananza Quindi Vabbè Non mi frega Niente Senti Vaffan Tranquillo No Stop Go Back Run No Run Ranger Torna Run Mi sa che torno indietro Ragazzi Permesso La sera La musica non mi convince Tanto Comunque Per me Scusate L'orario No Ma E C'è qualcuno Almeno Il padrone Di casa Bella Comunque La casa Complimenti E Posso dormire Secondo me Tutto Questo Quale un sogno Luce rossa Vuol dire Problemi Quindi Torniamo Indietro Subitissimo Ciao Ciao Stato un Piacere Sera No Vedo 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 che Lei è una bellissima Bambola Allora io non ho fatto niente di male Partiamo così Non ho fatto niente di male Non le voglio del male Quindi per favore Restiamo calmi Ok Restiamo calmi Così Magari io me ne vado anche Le chiudo Si può chiudere la porta Non si può chiudere Ma che cosa vuole che faccia io Devo fare qualcosa di particolare Ragazzi Vi giuro mi sono avvenibili Ma mi sto mettendo paura Che devo fare Eh Devo fa Oddio Barco Si Finito così Finito così Ma E mi stai prendendo in giro Scusa E mi metti in ansia terribile Poi mi È crashato il gioco Bho È crashato il gioco No raga Non si capisce No è crashato il gioco Boh Io direi di concluderla qua Poi Vabbè Faffanculo Vabbè Gioco di merda Perfetto ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete like Iscrivetevi Commentate Per darmi un feedback E detto questo Io vi saluto Luke saluta E ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi Sì Chi